ciao benvenuta o benvenuto a questo nuovo video tutorial dove vedremo come gestire le autofatture per la nostra amministrazione della nostra attività ovviamente io utilizzo uno strumento molto utile del quale sono veramente un fan ed è fatture in cloud e vedremo appunto come gestire le autofatture per non incorrere in sanzioni e per gestirle nel modo ideale appunto con questo programma gestionale ad ogni modo lo potrai fare con il tuo programma gestionale seguendo gli stessi passi e la stessa tipologia di informazione prima di iniziare però volevo presentarmi io sono michele de capitani mi occupo di marketing e digital marketing da oltre 20 anni aiuto gli imprenditori ad utilizzare gli strumenti digitali per poter espandere le loro aziende e utilizzare appunto internet e il web e qualsiasi tipologia di strumento appunto digitale per espandersi più velocemente e più diciamo in modo più professionale possibile quindi se ti piacciono questi argomenti iscriviti al mio canale e ovviamente se vuoi puoi già mettere un pollicione in su su questo video ovviamente sulla fiducia a parte gli scherzi andiamo a vedere cosa di cosa stiamo parlando e quindi andiamo nell'operativo una volta che noi abbiamo a che fare con fatture dall'estero che provengono dall'estero quindi acquistiamo dei servizi esteri e qua mi sto valendo di questo articolo di il commercialista online.it che ringrazio per aver scritto questo questo articolo molto accurato che dopo vi metto anche nei commenti come come link qui ci dà semplicemente delle istruzioni del fatto di cosa succede soprattutto e a questo che mi rivolgo quando dobbiamo registrare delle fatture all'estero da fornitore quindi acquistiamo servizi all'estero soprattutto i software solitamente i programmi o gli applicativi anche facebook google eccetera risiedono all'estero quindi dobbiamo registrare tutte le fatture che ci fanno queste tipologie di piattaforme queste tipologie di società dobbiamo registrarle seguendo questo nuovo regime che appunto è in vigore dal primo luglio del 2022 e le fatture appunto di acquisto dei fornitori esteri non possono più essere comunicate all'agenzia delle entrate attraverso l'esterometro che era lo strumento precedente adesso lo strumento è le fatture elettroniche facendo appunto l'autofattura il requisito fondamentale dell'autofattura è che deve essere fatta entro il 15 del mese successivo in questo caso significa che le fatture ricevute a giugno l'autofattura deve essere inviata entro il 15 luglio attenzione il rispetto del 15 del quindicesimo giorno successivo non vale per le fatture all'estero dei fornitori extra EU dove ovviamente ci sono varie altre operazioni la cosa fondamentale è quindi intanto sapere che dobbiamo raccogliere le fatture e le invoice quelle che si chiameranno invoice perché all'estero le chiamano così e raccoglierle e poi caricarle sul nostro sistema gestionale di fatturazione elettronica io come vi dicevo utilizzo fatture in cloud adesso lo vediamo facendo proprio un esempio pratico e dobbiamo inviare l'autofattura praticamente allo sdi quindi al sistema di gestione informatica delle fatture proprio per comunicarlo all'agenzia delle entrate ora vediamo appunto l'esempio pratico di come possiamo procedere eccoci qua ho ricevuto appunto il 14 luglio una fattura per un acquisto all'estero di un programma e quindi andiamo ovviamente a registrarlo come autofattura siamo nei limiti di legge perché non incorriamo non incorreremo in sanzioni perché oggi è il 10 agosto e il riferimento è il 14 luglio quindi abbiamo tempo ancora cinque giorni per poter registrare questa fattura in autofatture quindi usando fatture in cloud del quale ti lascio un link qui sotto dove puoi registrarti perché dal mio punto di vista è il miglior gestionale per gestire appunto le fatturazioni e appunto tutta l'amministrazione della tua attività è proprio molto economico e efficientissimo in più il supporto è molto gentile ed è veramente un prodotto eccezionale quindi ti consiglio di almeno provarlo quindi scaricarlo scaricarlo accedere prova fare la prova gratuita e poi dopo valutare eventualmente l'acquisto anche perché costa relativamente poco rispetto a tutti gli altri gestionali che ho visto e vagliato infatti ho scelto per la mia attività per le mie attività perché ne ho più di una fattura in cloud e anzi è possibile integrare tutte le attività in un unico account e questo ovviamente è molto molto vantaggioso a parte questo spot di fattura in cloud che ovviamente non mi paga per fare questo ma siccome ha fatto un buon prodotto mi viene proprio spontaneo suggerirlo andiamo a vedere come registrare la nostra autofattura abbiamo qui la fattura e quindi andiamo su fatture documenti autofatture qui troviamo la lista di tutte le fatture poi nuova fattura il tipo di documento dobbiamo scegliere t17 td 17 che è l'integrazione autofattura per acquisto servizi all'estero andiamo a segnare quello poi dopo dobbiamo segnare il numero di fatturazione di numerazione delle fatture io ho creato un numero con la che sta per autofatture e il numero progressivo questo per creare un una cronologia e una numerazione di fatture parallela così almeno non si mischiano con quelle che abitualmente facciamo coi clienti questo tiene ordine tra le autofatture e invece le fatture reali poi dovremo digitare il fornitore ovviamente qua dobbiamo prendere i dati dalla fattura e la ragione sociale mi pare proprio che sia questa quindi andiamo a inserire fattura in cloud verifica che il fornitore non sia già stato inserito e poi dopo possiamo inserire tutti i vari i vari dati relativi appunto a questo a questo dubai la praticamente la città è dubai park il building quello lo mettiamo qua e dovremo mettere poi dopo il cap e altre altri dati quindi il cap non c'è mettiamo 0 0 0 e qua mettiamo dubai ok la partita iva taxi di è questa quindi mettiamo questa qui infatti ci dice taxi di e mettiamo dubai e mirati arabi ok regime fiscale ordinario salva una grafica che così almeno abbiamo salvato questo e lo possiamo recuperare nei prossimi caricamenti che andremo a fare poi dopo dobbiamo ovviamente mettere la lista degli articoli qua lo copiamo pari pari un un mese visto che però sono due quantità e la licenza è 15 dollari quindi mettiamo 15 e lasciamo in euro perché ovviamente non possiamo mettere il cambio di valuta e poi dopo ovviamente andiamo a inserire il pagamento che è stato saldato ed è stato saldato il giorno stesso quindi il 14 il 14 di luglio perché è stato pagato con la carta di credito poi qui andiamo a caricare la nostra la nostra invoice quindi la salviamo sul desktop in modo tale che possiamo caricarla così resta allegata appunto alla nostra fattura verifichiamo che tutto sia corretto la numerazione è a posto i dati anagrafici ci sono qui è tutto a posto qua c'è la registrazione è il saldo possiamo finalizzare una volta finalizzato possiamo fare un'ultima verifica per vedere che tutto sia corretto ovviamente lasciamo l'iva ecco non non te l'ho detto ma dobbiamo lasciare l'iva al 22% e possiamo fare firma invia una volta firmato inviato non possiamo più tornare indietro l'unico modo per correggere questo invio è emettere nota di accredito e poi dopo ripetere l'operazione nota di credito che è un'altra operazione che magari vedremo in un altro video ok così abbiamo registrato la nostra autofattura ora siccome ne ho ricevute altre di questo fornitore nel tempo volevo farti vedere come richiamare come fare più alla svelta utilizzando sempre fatture in cloud nella registrazione delle successive autofatture legate allo stesso fornitore adesso vado a prendere la fattura e vediamo come inserirla in modo molto più rapido rispetto a un primo inserimento eccoci qua una nuova fattura arrivata il 10 luglio sempre dallo stesso fornitore anzi è un fornitore che ha cambiato proprio negli ultimi negli ultimi momenti la destinazione quindi il servizio è lo stesso ma la ragione sociale di fatturazione è diversa e però questo ovviamente l'avevo già registrato e quindi ce l'ho a disposizione possiamo fare appunto quello che ti stavo dicendo cioè quello di fare un inserimento veloce quindi andiamo a fare nuova fattura anzi anziché nuova fattura andiamo a cercare la ragione sociale all'interno delle autofatture già fatte come puoi vedere esiste già quindi semplicemente andiamo qui su questa freccettina in giù e facciamo duplica e la usiamo come modello come vedi già prende la numerazione successiva quindi siamo passati da 53 alla 54 prende già tutti i dati e semplicemente noi dobbiamo andare a inserire le 9 quantità che è una il valore 15 usd che diventa un 15 euro autofatture qua possiamo mettere luglio e qua mettiamo in allegato ovviamente la nostra fattura che adesso prendiamo salviamo direttamente sul desktop 10 luglio ok una volta salvata la troviamo qua e la possiamo allegare e così abbiamo praticamente in pochissimo tempo ed è per questo che ti ho parlato così bene di fatture in cloud perché ci fa risparmiare un sacco di tempo abbiamo già fatto la nostra nuova fattura autofattura che possiamo inviare all'usd in modo tale da agevolare il tutto così abbiamo visto come poter inserire una nuova autofattura da zero e poi dopo inserirla invece dal punto di vista che il fornitore già inserito avevamo già fatto un autofattura e la recuperiamo creando un nuovo modello e quindi avere un inserimento delle autofatture molto molto più veloce in modo tale da non perdere tempo in queste pratiche ecco avere un software di questo genere ci aiuta a risparmiare un sacco di tempo rispetto a software molto più complessi e che non prevedono magari l'utilizzo di questi strumenti tieni presente che le autofatture come abbiamo visto sono online e sono richieste da luglio del 2022 fattura in cloud si è aggiornato quasi immediatamente nel momento in cui è stata richiesta questa cosa è comparso questo bottone che ovviamente prima non era necessario non era disponibile e questo è un grandissimo vantaggio avere una società così veloce nello sviluppo e non richiede alcun pagamento di sviluppo ma richiede una fee praticamente annuale un pagamento annuale in abbonamento tutto incluso è davvero un portento bene con questo abbiamo visto come appunto gestire queste autofatture che ci arrivano dall'estero in modo tale da non incorrere in sanzioni e avere la nostra contabilità e la nostra amministrazione aziendale perfetta bene se il video ti è piaciuto metti mi piace ti invito a scrivermi nei commenti se hai necessità di vedere qualche altro argomento legato a fattura in cloud o all'amministrazione aziendale o qualsiasi tipologia di argomento legato sempre all'ambito imprenditoria e digitale in modo tale da poter realizzare altri video e ovviamente ti invito a iscriverti al canale perché realizzo questi video praticamente ogni giorno e poi dopo li condivido a tutti i miei iscritti sul mio canale bene con questo è davvero tutto ti ringrazio tantissimo per l'attenzione ti auguro buona espansione e buon lavoro a presto grazie a tutti i miei iscritti sul mio canale